Tutto, 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 vai, mi tagliate, vai. Ma dovevi essere l'arrivo, qui, no? Seppo. Le basche, appunto, è tutto quello che vuole tenere. Il nostro corso, è tutto quello che vuole tenere. E l'arrivo, è tutto quello che vuole tenere. Il nostro corso, è tutto quello che vuole tenere. Il nostro corso, è tutto quello che vuole tenere. Il nostro corso, è tutto quello che vuole tenere. Il nostro corso, è tutto quello che vuole tenere.